Per Toyota è arrivato il momento di premere sull'acceleratore. L'azienda giapponese, dopo aver riconquistato la palma del maggior numero di auto vendute nel mondo da General Motors, ha rivisto al rialzo la previsione di utile. 9.3 milioni di dollari, il 10% in più di quanto inizialmente previsto. A spingere il produttore, che esporta oltre la metà di quello che produce in Giappone, soprattutto le vendite negli Stati Uniti. Nel 2013 il gigante prevede di vendere quasi 9 milioni di auto e i profitti esteri, complice a uno yen debole, potrebbero mettere il turbo.